Giulia Monitillo, fare la spesa è diventata un'impresa, un chilogrammo di cime di rapa, che buone, che si compravano un euro, adesso costano otto euro, lo so perfettamente cara Giulia ed è giusto parlarne perché io come te faccio la spesa, sempre faccio tutto quello che è necessario per dare una mano alla mia famiglia, tutto quello che è necessario farlo ed è diventato folle, folle alcune cose, parlavo con Emanuele proprio i giorni scorsi, io mangiavo prima, ve lo dico, il salmone perché proteico, sono rifissati dalla palestra, queste robe qua, o mangiavo la bresaola, cancellati tutti, un po' perché non voglio più mangiare carne o voglio limitare la carne e anche il pesce, un po' perché non è più fattibile, ora non riesco a prendere neanche il tonno, avete presente una scatoletta di tonno? Io prendevo quelle in vetro perché una parte insomma, ma porca puttana costava 2,50 euro, una scatoletta non so di quanti grammi costa 7 euro, ragazzi è una roba devastante, comunque vedete qua gli articoli che ha messo in queste infografiche Emanuele, mentre ricollegandoci a prima, questi chiudono il Parlamento per andare a vedere allo stadio magari senza pagare il biglietto la partita, e mentre parlano di abolire l'abuso d'ufficio per i potenti, perché l'abuso d'ufficio è per i potenti, ricordatevelo sempre, il dramma dei pasti insufficienti, un italiano su 6 soffre la fame, ragazzi un italiano su 6, siamo quasi al 20%, un italiano su 6, e sotto guardate, non sono solo i disoccupati, ricordatevelo sempre perché sono anche i pensionati, ma addirittura sono i lavoratori, milioni di contratti, qua dice un milione e tre, ma io ricordo e mi fido molto di più della Repubblica, un'intervista di Pasquale Tridico, ex presidente dell'Inps, che dava lui i numeri perché li conosceva bene in quanto professionista, tecnico, intelligente e competente, che dava dei numeri, qua dice un milione e tre, di contratti sotto salario minimo, cioè gente che comunque non arriva alla fine del mese. Caratina, un litro di latte, da 1,29 euro a 1,99 euro, oggi in offerta 1,29 euro, questa è una presa per il culo, lo so perfettamente, è così, e ci hanno anche preso per il culo, vi ricordate qualche mese fa, prima della fine dell'anno, con quel mitologico ministro Urso che diceva cos'è che era il carrello d'Italia, mi ricordate come si chiamava, che ovviamente non si è visto niente, non hanno messo un centesimo, ma hanno detto che loro il carrello anti-inflazione, ecco ora mi ricordo.